Quest'anno anche a Voghera, ieri 21 novembre, data della giornata nazionale degli alberi, abbiamo celebrato Alberi per il Futuro, l'iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e che dal 2015 ha consentito di piantare migliaia e migliaia di alberi nelle nostre città. Oggi è la festa nazionale degli alberi, come cittadini senza una connotazione partitica abbiamo deciso di festeggiare questo momento che ci parla di due cose, ci parla di tutela dell'ambiente e quindi sappiamo benissimo a cosa ci riferiamo, a cosa servono gli alberi, a cosa servono i parchi e poi un'altra cosa è la partecipazione. Una persona che ho conosciuto per diversi anni e che è stata per me un amico, questa iniziativa è nata nel 2015 tutto nasce dal fatto, Gianroberto Casaleggio è una persona di pensiero, di idee, un grande studioso, un intellettuale ma anche una persona molto pragmatica, a cui piaceva l'azione. Il comuni di Vogher è molto sensibile al tema del verde, al tema del verde come gli spazi verdi che possono essere utilizzati da tutta la comunità nostra. Non è il cemento che ci dà, quell'aria buona che necessita, ma sono gli alberi che pianchiamo anche in città Siamo povere di stelle in questa immensità Noi possiamo saudarci da pianti dell'Italia Noi possiamo saudarci da pianti dell'Italia